Il comune di Ardea, la provincia di Bergamo e il Ministero dei Beni Culturali hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per rilanciare e valorizzare le opere del noto scultore Giacomo Manzù, conosciuto nel mondo per le sue statue di bronzo. In base all'accordo, la collaborazione tra i tre enti servirà a diffondere la conoscenza dell'artista, nato a Bergamo nel 1908 ma vissuto ad Ardea. Gran parte dei suoi capolavori sono conservati nel museo a lui dedicato nel comune Rutulo, che raccoglie le sculture donate da Manzù allo Stato nel 1979. Come previsto dal protocollo, verrà istituito un gruppo di lavoro per definire le strategie di valorizzazione della produzione artistica dello scultore. Auspichiamo che si apra una nuova stagione di interesse per il museo a cui Manzù ha dedicato gli anni dell'impegno produttivo insieme alla moglie Inge, sottolinea in una nota all'assessora alla cultura di Ardea Sonia Modica. In una lettera alla direzione regionale dei musei, Modica ha chiesto anche un intervento per il ripristino dei marmi del sepolcro di Manzù nel giardino dell'area museale, rimasti fuori posto dopo la traslazione della salma dell'artista avvenuta lo scorso gennaio.